Mi chiamo Vito Ronzo Mondelli e possiedo una Nissan Leaf dal giorno del mio compleanno, il 15 giugno 2013. Vivo a Bari e un giorno ho deciso di andare a Taranto che dista 100 chilometri con la mia Nissan Leaf. I miei amici mi hanno detto, Vito non ce la farai mai con un'auto elettrica, ma quando sono a bordo della mia Nissan Leaf so che posso contare sulla tecnologia 100% elettrica. So che a carica piena posso percorrere ben più di 100 chilometri anche in autostrada. Mi sento libero ed è qualcosa di stupendo. Faccio quello che voglio e vado dove mi pare. Quando sono arrivato a Taranto con una carica e oltre il passato il ponte girevole vi assicuro che è stata una sensazione bellissima. Sono Vito Ronzo Mondelli e sto facendo la mia parte per la conquista del miliardo di chilometri.